ragazzi allora in questo video vi mostro come staccare i cassetti, sganciare i cassetti della cucina magari avete già visto qualche video, comunque ve l'ha detto qualcuno, basta tirare un po' forte verso l'alto che non ci vuole tanto si, va bene tirare verso l'alto con un po' di forza, così, e vengono via però prima c'è da controllare che siano quel tipo di modello perché magari qua sotto ci sono quei modelli che c'è da toglierli il gancio o c'è da svitarli ce ne sono di vari questo è uno di quei modelli lì facilissimi da togliere quindi basta fare una piccola pressione verso l'alto e vengono via per riagganciarli chiudi questi, tutti e due metti dentro le sue guide lo spingi fino in fondo una piccola pressione e aggancia e aggancia